Musica Vai, 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 non ti fermare, vai Da un po' Oh, ecco, vabbè, garantito in teoria, no? Garantito in teoria, no? Eccolo, è lui È lui Portato a casa Un'altra copia di Hit e si vola, dai Hit c1, hit c1 Hit c1 nella stessa multi Niente Hit preso, vai Vai per l'arma ora, lo c'ha Tony, ci sei in chat Se sì, vabbè, Niguang Se sì, digli a Eren Devi stremare il gioco, non Discord Su poco il gioco Perché tra poco si tocca a lui Beh, subito skip così Va bene, giustamente Vuole la 5 stelle Vediamo un po' Dai E niente E niente Tipo, quanto ti è rimasto? 3 multi? 3 multi in teoria E niente Porco 2 Porco 2 Porco 2 che rip Ok, vai Vai Niente Niente Dai che ti riesce lo Skyward Arp Dai No, risocio Sì, ma comunque nulla, eh Banner armi è shaftatissimo Io ho paura pura per il mio Io ho paura pura per il mio Vabbè, dai Ma quanti cazzo di Ma quanto sta ripetendo su questo banner? 65 65 Che schifo però, davvero, eh Banner armi è shaftatissimo E ti dirò Hai un po' shafticato anche sull'hitto Perché il pit è l'altino, eh Oh, 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 oh Dai GG Let's go Vai 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 Prima di andare avanti con il video però Volevo ricordarvi assolutamente Di seguirmi su tutti gli altri social Trovate tutti i link in descrizione Dalla mia pagina Instagram Alla mia pagina Twitter E anche ovviamente girate Su Facebook e Discord Seguitemi su Twitch Tutto in descrizione ragazzuali Mi raccomando È importantissimo Perché soprattutto Twitch Instagram E Twitter Sono i main social Che utilizzo sempre Tutti i giorni E tra l'altro Mi raccomando Tutto in descrizione Seguitemi Ora All'altranza A manetta Corri Volà Ok Qui la ghicchia un po' di più però C'è il volume in anticipo No ragazzi Il volume in anticipo Rispetto al PG Al gioco È avanti di uno Tipo È desincato Comunicato Comunicato Ah non mi era accorto Corro Ci sta Ci sta Ci sta Corro Ci sta Ci sta Davide Grazie Felicine 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 Ben tornato Beh Grazie mille Ma lei non sono uscito a vedere prima Scusami Tranquillissimo loves Tanto sul mio account Bisogna ancora pullare ragazzi Sul mio account Bisogna ancora pullare Tranquilli Ancora non è il turno Del mio account Questo è ancora L'account di Eren Sta pullando a oltranza 30k primo Il mio lo lasciamo penultimo La cilicina sulla torta Dove bestimeremo tanto Perché Non troverò un cazzo Dai 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 Gorou E niente Barbara Posto Perfetto Nemmeno il tempo di dirlo Gorou 25 stelle ancora però eh Ma Tony Che di Eren Quanto voleva pullare Cioè Fino a quanto voleva spingerci Cioè pullarle tutte Le 30k primo Oh buono Gorou Vai Dico buono Perché So che è buono Perché è un PG Che si punta Che è buono Però Poi se lo trovo io bestemmio Cioè Non è che non bestemmio Lo voglio lo stesso Però non me ne fico un cazzo Oh Dai Non so se è 50 e 50 Nooo Tony Nooo Voleva andare all in Finchè non lo trovo Vabbè Finchè non lo trovo Passiamo a me lo trovo Rip però cazzo Stamona Stamona è vero Porco 2 Porco 2 Rip Dai dai Che lo squirino The king is back Dai Aga 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 Dai Dai Che lo togli prima E niente E niente Next one Viola Ok E niente E niente Ah un altro corro Non mi era accorto Sorry Dai Dai Viola Va bene Viola Vabbè Meme barbara Porco 2 8 volte uscita Poi esci sempre in coppia con Gorou Quindi guardiamo Dai Nulla di nulla Bella Niente Vabbè Ancora nulla Buono Molto buono Cioè Please Se mi devi dare un 5 stelle Dammi Ditto Dometto Anzi Se mi devi dare 5 stelle Shaft Dammelo subito Al pital 40 Così Non mi faccio tanto Piti intero Please Domani Ti scioppo per l'arma Ragazzi Vi ricordo Sì sì Barbera Ci sei Ottimo Sì sì Lo so Lo so Però io ovviamente Dovano gioco lo stesso Però Porco 2 Se ne sono uscite 30 Di barbara Eh Ma appunto Uno vuole anche Gorou Buona scelta Cioè RPG nuovo Bandero un po' Così Tra l'altro Ok Cosa vuole fare Il nostro caro Eren Non pula più Ah no Fa Il giochetto Per E' caduto Il posto Ok Vai Oh Da 30 Stiamo già A 13.000 Insomma Sto facendo il rituale Sì sì Non immaginavo Favonius Ok Rip Ma quindi Non punta Sì comunque In confronto L'ho ci ha squirato Molto di più Porco 2 Ci ha squirato Di più Oh Vai Vabbè Hitto garantito Per forza Vabbè GG GG Sì Sì Non male Hai un bel gorono In mezzo E si vola Buona molti poi Ok Così Ah Gorono in mezzo Proprio schippato Così Ok 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 Schippato proprio Va bene Va bene Si punta l'arma Si punta l'arma Va bene Si punta l'arma pure per lui Va bene Va bene Si punta l'arma pure per lui Va bene Dai Let's go Sì Il pizzo ti do fai Sperando che esca lei Perché ha quell'arma lì Viola Non puoi schippare Dai schippa Queste cose qua schippale Queste cose qua schippale Oh Ma lol Ma lol Sarà da questo banner Ma lol Eh C'è un po' di delay con Con il volume ragazzi C'è con l'audio del gioco C'è Proprio indietro di una pull Che vedete Vi ho già partito con l'audio E ancora Niente Flip Vabbè Questo ci sta Ah Sono due dell'altro Si va all in Ok Nulla ancora Nulla all'orizzonte Nulla all'orizzonte Nulla all'orizzonte E insomma Quella spada Un po' Vai prossima Guardiamo un po' Ok Viola Va bene Sinzi a schippare Ultimo due multi eh Eh ora c'è 5 stelle Dai Ora c'è 5 stelle Eh fatti Dai Spadone Spadone Dai Spadone Già Spadone 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 Se puoi Toma Così Così Un bel toma Oh Ma tutti L'avete trovata Stavate che era Dato la voglio Guarda eh Direi sì Dai Dovrebbe essere La settantasettesima Niente 78 Oh Quanto lo sapevo Che mi dava L'unico 5 stelle Di quelli vecchi Che non avevo Quanto Lo sapevo Cosa avevo detto Ieri Se mi da Catching Cosa avevo detto Ieri Eh beh E' riuscire Ancora a shoppare Questo è tutto F2play Cosa avevo detto Ieri Niente Niente hit Ah beh Se torna di multi Dai Via Dai Sculata Oh Sculata 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 Hitto Hi Prossime Multi Anno Non mi uscirà mai Please Il problema È tutto Random C'è Eh lo sapevo Lo sapevo Vabbè Lo sapevo Cosa avevo